Sabato 15 maggio a Ostia parte la stagione balneare a due settimane dall'avvio. Siamo venuti a vedere se le spiagge libere sono pronte per accogliere i bagnanti da Ponente a Levante. La situazione che abbiamo trovato non è del tutto confortante. Qui siamo alla spiaggia degli sposi sul lungomare Paolo Toscanelli. Quello che abbiamo trovato è una ex doccia trasformata in una fontanella, vetri rotti e sporcizia tra mascherine lasciate per terra e bottiglie. Purtroppo le condizioni sono queste da un bel po' di tempo, sinceramente non sono molto scandalizzata da questa situazione. Però è molto brutto anche perché uno passeggia qui e purtroppo la situazione è così. Tutto sporco, immondizia, plastica, vetro, ovunque. Quindi nemmeno volendo scalzi si potrebbe andare adesso. Determinate cose le sottovalutano invece di stargli molto più appresso, che non sono da sottovalutare assolutamente. Testa situazione alla ex spiaggetta sul lungomare Caio Duilio, tra passerelle di velte e rifiuti abbandonati sulla sabbia. Tanto che tra i residenti che frequentano abitalmente gli arenili c'è chi propone di far svolgere la pulizia ai percettori del reddito di cittadinanza. Per pulire le spiagge basterebbe prendere la gente che gli hanno promesso un posto di lavoro, dandogli un sussidio e li portano qui a pulirle. Ma che estate sarà quella del 2021 a Ostia? Le misure saranno in gran parte quelle adottate lo scorso anno, tra distanza tra ombrelloni e ingienizzazione delle attrezzature. Tornerà anche la web app C-Pass, che permetterà ai cittadini di monitorare in tempo reale la disponibilità dei posti.